Voglio dirvi solo una cosa molto veloce tra venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 a quest'ora della notte. E' stata organizzata una raccolta di firme per salvare il corpo delle crocerossine, che è uno degli obiettivi maledetti. Una raccolta di firme che sta andando ancora oltre le più rose aspettative. Ne sono state raccolte fino a questo momento 6.441. Vediamo se riesco a farvi vedere la schermata. Non so se sono riuscito a farvi vedere la schermata. Ecco, 6.441 firme raccolte affinché non si perda quest'altro patrimonio della croce rossa. Ama, conforta, lavora, salva, sostenete la sopravvivenza del corpo delle crocerossine. Ci avviamo velocemente verso uno strepitoso risultato. Buonanotte.